Preghiera al preziosissimo sangue di Gesù Cristo, di sanga spare del bufalo. Nel mese di luglio, dedicato al preziosissimo sangue di Gesù, vogliamo pregare, offrendo a Dio Padre, il sangue di Gesù, per tutte le nostre necessità. Senza la preghiera il nostro agire diventa vuoto e il nostro annunciare non ha anima e non è animato dallo Spirito. Queste sono le sette offerte del sangue preziosissimo di Gesù Cristo a Dio Padre. Iniziamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la gloria del Tuo Santo nome, per l'avvento del Tuo regno e per la salvezza di tutte le anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ci offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la propagazione della Chiesa, per il Sommo Pontefice, i Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi e per la santificazione del popolo di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la conversione dei peccatori, per l'amorosa adesione alla Tua parola e per l'unità di tutti i cristiani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per l'autorità civile, per la moralità pubblica e per la pace e la giustizia dei popoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per la consacrazione del lavoro e del dolore, per i poveri e gli infermi, i tribolati e per tutti coloro che confidano nelle nostre preghiere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti e benefattori e dei nostri stessi nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offriamo il sangue preziosissimo che Gesù versò sulla croce e ogni giorno offre sull'altare, per coloro che oggi passeranno all'altra vita, per le anime del Purgatorio e per la loro eterna unione con Cristo nella gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù che con il suo sangue ci ha salvato. Eterno Padre, ti offro il preziosissimo sangue del tuo Figlio Gesù, in unione alle sante messe, oggi celebrate in tutto il mondo, per tutte le sante anime del Purgatorio, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli nella mia casa e nella mia famiglia. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva il sangue di Gesù, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie.